Prince Harry e Meghan Markle non vedranno alcun cambiamento nella loro popolarità in America se i loro titoli verranno rimossi poiché un consulente per le relazioni anglo-statunitensi ha avvertito che la coppia ha già spremuto l'utilità del marchio reale. L'ex consigliere anglo-americano degli Stati Uniti e membro anziano del think tank del Bo Group, Lee Cohen, ha dichiarato a Express.co.uk che crede che la rimozione dei titoli del principe Harry e di Meghan Markle farà poco per cambiare la loro popolarità negli Stati Uniti. I critici dei Sussex affermano che il pubblico americano è interessato alla coppia solo a causa dei loro titoli e dei legami reali a cui Lee Cohen ha espresso un punto di vista più scettico. Mentre crede che possa aver aiutato a lanciare la loro carriera negli Stati Uniti, Cohen afferma che il pubblico americano ora guarda oltre e ora vede Harry e Meghan come il proprio marchio parlando con Express.co.uk, a Cohen è stato chiesto se crede che una rimozione del titolo possa fare qualcosa per Harry e Meghan negli Stati Uniti. Punto. L'esperto reale ha risposto. Penso che i Sussex abbiano già tratto gran parte del valore delle pubbliche relazioni dal loro status originale di coppia reale. Ora, mentre quei titoli non sono stati ufficialmente rimossi, sono stati giustamente incoraggiati dal palazzo a non usarli. Ma per la fama di Hollywood e per scopi di talk show, il cavallo è già fuori dalla stalla. L'America, riconosce già Meghan come la principessa americana e lo sarà sempre, nonostante il suo titolo venga tolto. Anche se un giorno quei titoli verranno rimossi, in America, non hanno comunque alcuno status ufficiale. Il loro unico valore è promozionale e, meritato o meno, è già stato raggiunto. Il signor Cohen ha poi fatto riferimento all'Americana Wallis Simpson, la duchessa di Windsor, che era sposata con Edoardo VIII ed è stata accusata della sua abdicazione dal trono. Ha continuato. Consideriamo lei che è diventata una figura di culto qui negli Stati Uniti e non le è mai stato concesso lo status di HRH. Ma quando, Wallis ed Edward, hanno vissuto gran parte della loro vita sia in Francia che negli Stati Uniti, avevano una sorta di corte alternativa intorno a loro e persone che erano molto interessate a crogiolarsi nella loro cerchia anche se certamente non meritavano nella loro astuccio. Un altro esempio è Sarah Ferguson, che aveva LHRH quando era sposata con il principe Andrea e poi è stata rimossa quando hanno divorziato. Ma era già in viaggio qui e si è stabilita qui negli Stati Uniti per contratti di libri e apparizioni televisive.